Assumersi la responsabilità delle proprie azioni è oggi la cosa che è meno comune di questi nostri anni. Perché? Perché accade questo? Perché le persone non sanno chi sono. La gente, quelli che noi definiamo come gli altri, attraverso le distrazioni quotidiane che il mondo esterno, il mondo delle forme ci dà, smettiamo di entrare in contatto con noi stessi e smettendo di entrare in contatto con noi stessi succede proprio questo. Succede che la forma esterna, il mondo esterno ci prende, ci rapisce e noi attratti totalmente da quello che fuori esiste, da quello che all'esterno la forma ci dà, ci dona, ci distogliamo dallo sguardo interiore. Quello sguardo interiore antico che ci porterebbe in territori magari scomodi, però è l'unico sguardo che realmente conta. Perché questo sguardo è l'unico che realmente conta? Questo non significa smettere di agire nel mondo, smettere di attuare quelle azioni quotidiane che necessitiamo di compiere per vivere sulla Terra, ma bilanciare entrambe le cose, avere uno sguardo interiore e contemporaneamente non lasciare mai lo sguardo esteriore al caso. E sviluppando lo sguardo interiore si sviluppa anche la responsabilità di ciò che siamo. Perché chi non sa chi è, o almeno non ha mai intrapreso un percorso di conoscenza verso l'essere che è, difficilmente potrà mai assumersi la responsabilità della vita, perché sarà, si sentirà, guardando solo al mondo esterno, separato da quello che lui definisce. Esistenza, si sentirà separato dalla vita stessa. Questa separazione quindi genera un conflitto tra lui e l'ambiente. Il conflitto con l'ambiente è prerogativa anche di tutti quegli antagonismi che andiamo a vivere con i nostri fratelli umani, senza assumersi la responsabilità della propria azione. L'essere umano medio non si assume la responsabilità delle proprie azioni. Delegando così il potere del modo in cui la persona sta al mondo esterno. Quindi se accade qualcosa di negativo, punto il dito verso fuori, punto il dito verso un mio familiare, un mio conoscente, senza capire che in realtà è la conoscenza di ciò che noi siamo che va a modificare la realtà esteriore. E più io mi conosco, più assumo dentro di me la coscienza di ciò che io sono, più mi posso assumere la responsabilità della mia vita. E allora lì, quando qualcosa all'esterno non mi piacerà, saprò che l'unico punto che posso andare a modificare, l'unico fulcro entro il quale posso concentrarmi è solo il mio centro, perché da lì ha origine tutto. Grazie